Covid, nell'ultima settimana positivo lo 0,5% dei tamponi nell'Ulssotto, 20 guariti, nessun morto. Febbre d'engue, il focolaio di Montecchio sarebbe dovuto alla zanzara tigre, un caso raro, tutto sotto controllo. Coronavirus, Posina difende il primato, nessun contagio, test gratuiti e volontari aperti a tutti i 600 abitanti. Pulizia straordinaria Campomarzo in vista della festa dei 8, via le siringhe dal parco. Montebello Vicentino, camion in manovra distrugge i contatori di luce e gas e innesca un incendio. Buonasera dalla redazione di TG Vicenza, lo sguardo in apertura al bollettino pomeridiano di Azienda Zero sui dati dei contagi, altri 50, li registriamo rispetto alle 8 di stamattina, il totale sale 2.285 casi positivi, di questi 50 15 a Padova e 10 nel Veronese, 9 nel Vicentino. Rimangono stabili i dati della terapia intensiva con 6 ricoveri, salgono di 6 i pazienti ricoverati, ma in area non critica, non si è registrato nessun decesso. Vediamo adesso qual è la situazione dell'emergenza Covid nell'Ulss 8 Berica. Nell'ultima settimana sono stati 13.627 i tamponi effettuati, 73 positivi, quindi lo 0,53%. Calano i pazienti in sorveglianza passiva, 113 in meno rispetto a una settimana in fa, 104 in più quelli in sorveglianza attiva, 7 i ricoverati totali, quindi 3 in più rispetto a 7 giorni fa. In terapia intensiva c'è solo un paziente, 1 in meno. Non c'è nessun decesso, la buona notizia è che i guariti in questi 7 giorni sono 20, i pazienti dimessi dagli ospedali iberici sono 3. Ad è stato stupore il caso del forcolaio di febbre dengue circoscritto nel Vicentino. L'Ulss Berica, già approvata dalla gestione del Covid, tiene costantemente monitorata anche la mutazione dei virus e la loro trasmissione. Zanzare e tigri sono diventate competenti, cioè hanno avuto una piccola modifica genetica, sono diventate appunto competenti per ospitare anche questi germi, questi virus che normalmente girano in maniera preferenziale più nelle zone tropicali. Le zanzare si sono evolute in questo senso. È stata proprio la modalità di diffusione del contagio, attraverso una puntura di zanzara tigre, ad aver caratterizzato il focolaio di febbre dengue a Montecchio Maggiore. Un caso autoctono circoscritto al numero familiare interessato e dichiarato sotto controllo. È una malattia tutto sommato tranquilla, perché dà una sintomatologia similfebbrile con eventuali altragie. Chiaramente, come lo zika virus, per cui abbiamo avuto delle epidemie negli anni scorsi, quella storica in Emilia-Romagna, che aveva tanto spaventato, possono essere pericolose in persone più fragili. Archiviato il caso Dengue, è sul fronte scolastico che la sanità vicentina è ora impegnata massivamente. Prosegue a pieno regime lo screening anti-Covid degli insegnanti e non. 4.500 test già eseguiti nei primi tre giorni, circa 1.700 quelli eseguiti dall'USBERICA. I test hanno riscosso una buona adesione finora. Con l'adesione del 60%, adesso sta crescendo e siamo al 70-80%, ricordando che è una adesione su base volontaria, a cui collaborano anche i medici di base. Prevediamo una prossima settimana di gran lavoro, visto anche le telefonate di richiesta informazioni che arrivano al nostro numero verde. C'è un grossissimo interesse da parte dei docenti. Avete già qualche indicazione su casi positivi? Beh, il quadro è confortante. Dobbiamo dire che si tratta di un'indagine che dal punto di vista epidemiologico mira a valutare come è circolato il virus in una determinata categoria di persone, in questo caso i docenti. In più di 1.000 testati abbiamo solo un caso di un positivo al tampone. Andiamo ora a Posina, che oltre ad essere uno dei comuni più piccoli del Vicentino e d'Italia, è un comune che detiene anche un altro record. C'è un'iniziativa anti-covid rivolta a tutti i residenti. Vediamo. Posina si sta preparando all'eventuale ritorno del coronavirus organizzando un controllo sierologico a tappeto di tutti i suoi residenti. È cominciata oggi la distribuzione dei moduli per aderire all'iniziativa in ogni casa del territorio di competenza. Uno screening volontario voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la protezione civile e il centro medicina. Programmati test sierologici negli impianti sportivi comunali tra il 7 e il 10 settembre prossimo in forma gratuita a chi ne farà richiesta. Posina, abitata da persone prevalentemente anziane, ha fatto della prevenzione l'arma di protezione principale dei soggetti più a rischio. Il comune durante la prima fase della pandemia vanta il primato di non aver avuto nessun caso di contagio. Segno anche che si sono adottate buone pratiche di prevenzione. Un primato che i 600 residenti intendono mantenere con tutti i mezzi a disposizione. I test per ciascun abitante sono un segnale per una ripartenza in sicurezza dopo la pausa estiva. Parliamo ancora di allerta meteo perché ce n'è uno importante tra i pomeriggio di oggi fino alla mattina di domenica. Il problema del dissesto idrogeologico e di competenza della regione come spiega Daniela Sbrollini, candidata presidente per Italia dei Valori, PSI, PRA e lista civica Veneto. È evidente che il problema non è di adesso, è un problema che ci portiamo davanti da tantissimi anni proprio per una mala gestione delle politiche infrastrutturali e ambientali che questa regione non ha fatto. Tanti problemi sul piatto spiega Daniela Sbrollini, candidata presidente della regione Veneto sostenuta da Italia Viva, PSI, PRI e Civica Veneto. Pensiamo al dissesto idrogeologico, pensiamo a tutta una serie di manutenzioni, anche di pulizia dei canali, di tutta una serie di cose, dei fiumi che non sono state fatte da questa regione, pur avendo delle competenze specifiche. Ecco, io penso che dopo 25 anni di gestione sempre dello stesso colore politico, Zaia non può dire che non ha responsabilità. Ecco le proposte concrete che arrivano da Daniela Sbrollini. Basta consumo del suolo, bisogna cominciare a parlare di sviluppo sostenibile, di fare manutenzione, di avere cura del nostro territorio, così come non è stato fatto finora. Molte le ondate di maltempo di questo mese di agosto, una in transito proprio in queste ore sul nostro territorio, ma quali danni per la nostra agricoltura, secondo Coldiretti, in questo periodo costellato di perturbazioni? La nostra provincia di Vicenza, fortunatamente, è stata risparmiata anche dall'evento che ha colpito anche la provincia di Mitrofe. Abbiamo avuto delle buone precipitazioni d'acqua, non so, dai 20 ai 50 mm, un po' diffuse in tutto quanto all'areale. Assistiamo purtroppo nell'ultimo periodo anche ad eventi estremi, proprio ci tocca con mano che siamo di fronte anche a mutamenti climatici. Così il direttore di Coldiretti Vicenza traccia in estrema sintesi il bilancio dei danni in agricoltura nella nostra provincia. Rispetto alla vicina Verona e alla Valpolicella, a Vicenza i danni sul raccolto non sono stati così ingenti mediamente. Ancora in corso l'esatta conta dei danni, ma poteva andare decisamente peggio, questa volta. Ma c'è poco da consolarsi. I repentini passaggi dei periodi siccitosi con alte temperature si alternano violenti rovesci con grandina e forte vento. Cosa fare? Come intervenire? Sono questioni molto complesse e di non facile soluzione. Coldiretti però sottolinea ruoli e competenze. E' riconoscere anche il ruolo che ha creativi d'agricola in alcuni territori per quanto riguarda la difesa idrogeologica. Quello che la presenza in certi territori pedi e collinari dell'azienda agricola possa veramente difendere quel territorio, possa anche dare la garanzia di manutenzione di quel territorio per evitare danni ulteriori che ci possano essere, per quanto ci sono precipitazioni che sono importanti e se arrivano su areali grandi sono difficili anche a gestire. Quindi un territorio ben coltivato, con la presenza dell'uomo che ci ha una garanzia per tutta anche la cittadinanza. Vicenza si prepara alla tradizionale festa dei Otto e il sindaco ha ordinato una pulizia straordinaria di Campo Marzio. Guerra alla droga, a Vicenza l'indirizzo voluto dal sindaco è via le siringhe da Campo Marzo. Via le siringhe con i blitz delle forze dell'ordine contro i pusher, via le siringhe con l'identificazione dei tossicodipendenti, via le siringhe con le pulizie straordinarie del parco come quella di oggi per accogliere i bambini alla tradizionale festa dei Otto. Periodicamente facciamo una pulizia straordinaria due o tre volte all'anno dove andiamo a raccogliere quelli che sono rifiuti speciali come ad esempio purtroppo la presenza di qualche siringa e devo dire che questa mattina abbiamo rilevato che siringhe praticamente non ce ne sono, pochissime ne hanno trovate due o tre in tutto Campo Marzo. Insomma, buone notizie. Le siringhe sono un termometro della presenza dei tossicodipendenti a Campo Marzo. Una riduzione della droga è legata sicuramente al lockdown ma anche e soprattutto al giro di vite voluto dal sindaco col supporto delle forze dell'ordine. Noi stiamo lavorando da inizio mandato per rafforzare i controlli e debellare il fenomeno dello spaccio e anche del consumo. Chiaramente l'ultima operazione di polizia di Stato ha garantito l'arresto di moltissimi spacciatori, 27 per l'esattezza. Da questo punto di vista ora stiamo lavorando anche sul consumo attraverso una cooperativa che si occupa del recupero di tossicodipendenti. Il fenomeno droga a Vicenza è un fenomeno presente, grave, c'è molta offerta ma c'è altrettanta domanda e quindi bisogna lavorare anche da un punto di vista sociale. Le prossime mosse qui a Campo Marzo? Le prossime mosse sicuramente stiamo lavorando per una riqualificazione, una rifunzionalizzazione di Campo Marzo e in particolare sull'area d'antistante, la stazione delle Corriere, stiamo lavorando sul progetto ormai definito del presidio fisso di polizia e nei prossimi giorni partirà un concorso per l'assunzione di 10 vigili che quindi andranno a rafforzare le pattuglie sul territorio. Ora vi mostriamo le immagini, alcuni scatti di un incidente stradale accaduto a Bolzano Vicentino lungo la Postumia e in gravi condizioni un motociclista di Lonigo di 63 anni è ricoverato al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza in prognosi riservata. Ha avuto la peggio in questo incidente che come vediamo ha coinvolto automobili, questa moto e un camion. Con il sinistro, appunto come detto lungo la Postumia, Bolzano Vicentino è rimasta ferita in modo lieve un'altra persona. E ora i principali fatti di cronaca della provincia nel nostro rullo. San Vito di Leguzzano L'abbandono dei rifiuti costa assalato a un uomo pizzicato dalla telecamera piazzata dalla polizia locale nell'isola ecologica di Viale Europa. 400 euro di multa per il cittadino che ha lasciato una valigia, una bicicletta e alcuni contenitori di plastica vicino ai cassonetti. Malo, una nuova ciclabile, verrà realizzata dalla frazione di case fino al centro del paese. Sono stati affidati ufficialmente i lavori per la realizzazione ad un'impresa veronese, un ribasso dell'8,8% che consentirà di fissare a 309 mila euro l'importo complessivo per l'opera. Il tracciato ricalcherà l'anello più sterno lungo la provinciale 114, passando per l'ex ospedale De Marchi fino al bocciodromo. L'opera fa parte di un progetto più ampio, cofinanziato dalla provincia di Vicenza, che interessa anche i comuni di Costa Bissara, Isola Vicentina e Schio, in un sistema sovracomunale di mobilità sostenibile. 90 Vicentina, ridiamo il sorriso alla pianura padana. Il progetto di piantumazione gratuita di 20 mila alberi avviato nel Basso Vicentino viene allargato all'intera pianura veneta. 70 mila gli alberi autoctoni pronti per essere piantati, con oltre 26 mila prenotazioni da parte di cittadini dei comuni che aderiscono all'iniziativa Green in tutto il Veneto, in particolare da Agugliaro, Sossano, Campiglia dei Verici, Poiana Maggiore e Castegnero. Schio, proteggere i pascoli e l'ambiente rurale della Valle Eugra. Sono previsti premi economici ed incentivi per recuperare le aree abbandonate dall'agricoltura tradizionale. Finora sono stati erogati 60 mila euro a fronte di 600 domande inoltrate all'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino. L'ente ha fissato all'11 settembre prossimo la scadenza della presentazione delle nuove richieste. Contributi che potranno raddoppiare se i terreni saranno affidati ad agricoltori della zona, con un regolare contratto della durata di almeno 5 anni. Adesso andiamo a Montebello Vicentino. Come abbiamo visto nei titoli, un camion in manovra ha distrutto i contatori di luce e gas, innescando anche un incendio. Montebello Vicentino. Un'auto articolato in manovra provoca l'incendio di alcuni alberi. È accaduto in mattinata verso le 7 in via Vigazzolo. Il retro del camion ha abbattuto una casetta contenente contatori di luce e gas metano di media pressione. Questo è stato l'innesco che ha provocato l'incendio alla vegetazione circostante, alimentato dal gas liberato. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco di Arzignano, che in un'ora e mezza hanno chiuso la mandata del gas, spento il focolaio e rimesso in sicurezza l'area. Dopo i nostri telegiornali, come di consueto, Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, puntata speciale oggi con ospite Giuseppe Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, per tutte le novità sul futuro del calcio dilettantistico. La nostra programmazione serale, come sempre, con focus alle 21.15. Tra i tanti ospiti, Simone Borile, Riccardo Brunello, Elena Donazzan, Alberto Gottardo, Gianmarco Lu, Federica Pietro Grande, Flavio Pinton e Massimo Venturato. È tutto anche per oggi dalla redazione del TG Vicenza. Vi lascio al meteo. Buona serata. Ben trovati al meteo. Drastico cambiamento di scenario nel weekend a causa di una perturbazione che porterà maltempo e temperature in lieve calo. Il dettaglio di sabato 29 agosto. Sul Veneto al mattino ancora qualche spazio soleggiato, ma condizioni via via più instabili, con nuvolosità in aumento, temporali dapprima sulle zone montane e pedemontane, col passare delle ore anche altrove. Attenzione a fenomeni localmente forti, rischio di criticità idrogeologiche. Temperature minime fino a 21 gradi, massime invece tra 27 e 32 gradi all'incirca. Vediamo ora che tempo farà a Vicenza. In città, ma anche in provincia, inizialmente la giornata partirà con una maggiore stabilità, ma sarà destinata a durare ben poco, perché con il passare delle ore avremo più nubi con rovesci diffusi e quantitativi di pioggia anche abbondanti. Dal meteo per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.